E' entrata nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale dopo la presentazione ed ufficializzazione delle liste dei candidati. In campagna sono otto i candidati alla carica di Presidente della Regione. A contendere lo scettro al governatore uscente Vincenzo De Luca ci sono Stefano Caldoro per il centrodestra, Valeria Ciarambino per il Movimento 5 Stelle, Sergio Angrisano per il Terzo Polo, Giuseppe Cirillo per il Partito delle Buone Maniere, Giuliano Granata di Potere al Popolo, Gabriele Nappi naturalismo e Luca Salta la Macchia per terra. Il Vallo di Diano ancora una volta presenta un gran numero di aspiranti consiglieri per un territorio che vanta circa 60.000 elettori con il rischio concreto di veder nuovamente infrangere tra le reti dell'ambizione il sogno di tutela cui ambisce. Una partita che però vede in particolare gli esponenti del centro-sinistra battagliare tra di loro per un posto in Consiglio regionale rispetto invece ai candidati del centrodestra con due esponenti locali. Nel dettaglio sono sette i candidati locali a cui si aggiunge un esponente cilentano che da alcuni anni risiede nel Vallo di Diano. Degli otto totali che si presentano alla sfida, ben cinque sono candidati a sostegno del presidente uscente e fanno parte della vastissima coalizione del centro-sinistra che conta nella sola provincia di Salerno ben 134 candidati rispetto ai 54 sostegno di Caldoro, di cui due del Vallo di Diano. Partendo da questi ultimi, i nomi espressioni del Vallo di Diano sono Valentino Di Brizzi, imprenditore e candidato con il partito della Lega Salvini Premier, partito presente per la prima volta alle elezioni regionali dopo il notevole risultato ottenuto alle scorse elezioni politiche. e Francesco Bellomo, candidato della lista di Fratelli d'Italia. Ben più agguerrita la competizione a sinistra, a contendersi il posto in consiglio regionale nel Vallo di Diano troviamo Giacinto Curcio, tra i primi ad ufficializzare la candidatura con più campagne in Europa e Giovanni Guzzo, cilentano ma che vive da alcuni anni nel Vallo di Diano, candidato con il Partito Socialista. Confermate poi le candidature annunciate da tempo di Corrado Matera per il Partito Popolare di Fare Democratico e di Tommaso Pellegrino per Italia Viva. Arrivata in extremis poi la conferma della candidatura di Donato Pica nella lista di Mastella, noi campani, composta da otto candidati. Tutti nomi a sostegno di De Luca. Il Vallo di Diano inoltre esprime anche un nome a sostegno di un altro candidato presidente, ossia Sergio Angrisano, sostenuto dalla sola lista del terzo polo che vede tra i candidati il pollese Giovanni De Lauso.